Ciao ragazzi, bentornati al MaxLegnale. Oggi per voi abbiamo una sfida e un bellissimo risultato. La sfida è questa. Scegliete un qualsiasi numero intero positivo, quello che più vi piace. Grande quanto vogliate, non è importante. L'avete scelto? Bene, adesso siete sfidati a trovare una potenza di 2, le cui prime cifre siano esattamente il numero che avete scelto. Sembra difficile? Beh, in effetti lo è. Però la prima domanda da porsi è, questo numero c'è o non c'è? Ci stanno fregando, crede il MaxLegnale, oppure no? Quello che andremo a vedere oggi è che no, non vi stiamo fregando. Qualsiasi sia il numero che avete scelto, c'è una potenza di 2 che inizia esattamente con quel numero. Pronti? Iniziamo! Cerchiamo di riformulare il problema in modo da poter poi fare la dimostrazione. Come faccio a dire, per esempio, che sto cercando una potenza di 2 che inizia per 13? Ho scelto un numero a caso. Beh, da quante cifre può essere fatta questa potenza? Può essere fatta da una cifra sola? No, perché chiaramente 13 è fatta da due cifre e quindi almeno due cifre dovrà avere questa potenza. Può essere fatta da due cifre? Teoricamente sì, se 13 fosse esattamente una potenza di 2, per esempio se avessi chiesto 16 anziché 13, 16 sarebbe già stata una potenza di 2 e quindi avrei finito. Può essere formato da tre cifre? Beh, non lo so, andiamo a vedere. Quali sono i valori possibili? Il valore più piccolo di tre cifre che inizia per 13 è 130, il più grande è 139. Quindi diciamo che devo controllare i valori tra 130 e 139 o, se preferite, scrittelo in un altro modo, tra 130 e 140 col 140 escluso. Non ce ne sono. Andiamo avanti, quattro cifre tra 1300 e 1399, ovvero tra 1300 e 1400 col 1400 escluso. Anche qui elenchiamo le potenze di 2, non ce n'è. Andiamo avanti dai speranzosi, tra 13.000 e 14.000 escluso. Niente, non ci sono. Vabbè, proviamoci ancora. Tra 130.000 e 140.000 ce n'è una? Sì, 2 alla diciassettesima fa 131.072 e cade esattamente dentro lì. Quindi abbiamo trovato effettivamente la nostra potenza di 2 che inizia per 13. Quindi, se noi adesso mettiamo un bel 2 alla n in mezzo a quelle disequazioni, stiamo cercando un esponente n tale per cui 2 alla n sia compreso tra dei valori. Ma quei valori come possono essere espressi? Il più piccolo abbiamo detto che era in realtà il numero stesso, quindi potremmo scrivere il numero stesso per 10 alla 0. Successivamente abbiamo moltiplicato per 10 alla 1, per 10 alla 2, per 10 alla 3, per 10 alla 4, tutti i lati sinistri. E invece il lato destro? Beh, abbiamo sempre aggiunto 1 al nostro numero. Da 13 avevamo 14, da 130, che era 13 per 10, è diventato 14 per 10, e così via. Quindi possiamo riassumere il tutto dicendo che trovare quella potenza di 2 significa trovare una coppia di valori in realtà. n, che è proprio l'esponente del 2, e k, che è la potenza del 10 che moltiplica il nostro numero, tale per cui 2 alla n deve essere compreso tra il nostro numero per 10 alla k e il successore del nostro numero per 10 alla k, dove quest'ultima disuguaglianza è una disuguaglianza stretta. Perché ovviamente se no non inizierebbe con quel numero lì, visto che andremo già col successore. È già stato difficile, ma l'abbiamo riformulato. Adesso possiamo davvero iniziare la dimostrazione. Riformuliamo quindi il nostro risultato. Vogliamo dimostrare che, preso un qualsiasi numero a maggiore di 0 intero, che è il numero che scegliamo noi, deve esistere una coppia di valori naturali n, k, che sono i nostri esponenti, tali per cui valga questa disuguaglianza tra questi tre termini. Come facciamo a lavorarci? Beh, ci sono delle potenze, ci sono dei prodotti, sembra proprio che i logaritmi possono essere la strada corretta. Anche perché ci sono delle disuguaglianze, e noi sappiamo che il logaritmo, logaritmo in base 10 in questo caso, avendo una base maggiore di 1, è crescente, e quindi preserva i versi di disuguaglianza. Quindi, applichiamo il logaritmo in base 10 a tutti e tre i termini, applichiamo le proprietà dei logaritmi, per esempio, che il logaritmo del prodotto sia la somma dei logaritmi, che ci permette di spezzare i due lati a sinistra e a destra. Ora, usiamo sia la definizione di logaritmo, sia il fatto che possiamo portare gli esponenti degli argomenti davanti ai logaritmi, e ci ritroviamo con questa disequazione, che effettivamente non sembra proprio meglio di quella di prima, ma fidatevi, sarà ben meglio, ma prima di addentrarci nel finale della dimostrazione, dobbiamo introdurre due simpatici amici che ci aiuteranno, la funzione parte intera e la funzione parte frazionaria. Andiamo a scoprirli. Per spiegare il concetto di parte intera e parte frazionaria, almeno come la useremo noi, può essere utile iniziare con un esempio. Prendiamo un numero, 3,53. Beh, questo è un numero positivo, e siamo tutti d'accordo che possiamo scriverlo come 3 più 0,53, perché in qualche modo 3 è la sua parte intera, cioè il suo intero, e poi ci abbiamo aggiunto uno 0,53, che è un numero tra 0 e 1, che è la parte che sta, diciamo, dopo la virgola. Ecco, l'idea di fondo è questa. Nel caso di 3,53, effettivamente la sua parte intera è 3, la sua parte frazionaria è 0,53. Cerchiamo di formalizzarlo un attimino meglio, sempre ricordandoci in testa questo esempio. Prendiamo un numero x, per adesso lo consideriamo positivo, poi vediamo cosa succede con i negativi, chiamiamo parte intera di x il più grande numero intero che non superi x. In questo caso, 3,53, il più grande numero intero che non supera il 3,53 è proprio 3, perché dopo diventerebbe 4, che è più grande. Bene, la parte frazionaria la definiamo per differenza, quindi prendiamo x e gli sottraiamo la sua parte intera, 3,53 meno 3 fa proprio 0,53. Questa è la definizione. In questo modo, quantomeno per i numeri positivi, vale la seguente regola, cioè che ogni numero può essere espresso come la sua parte intera più la sua parte frazionaria, che sarà la proprietà essenziale. Vediamo cosa succede con quelli negativi, perché sì, purtroppo ci potrebbe capitare durante la dimostrazione. Prendiamo, non lo so, meno 3,53 e teniamo la stessa definizione. Qual è il più grande numero intero che non supera meno 3,53? Beh, è meno 4, perché effettivamente il numero successivo sarebbe meno 3, che è maggiore di meno 3,53. Quindi la sua parte intera è meno 4 e a questo punto, se noi la parte frazionaria la vogliamo definire in modo che sia valida la relazione che abbiamo scritto, quello che dobbiamo fare è prendere il numero, quindi meno 3,53, sottrarre la sua parte intera, meno meno 4, e otteniamo 0,47. Tramite questa definizione abbiamo che la parte frazionaria di un numero è sempre un numero compreso tra 0 e 1 e vale sempre la relazione che abbiamo visto, sia per i numeri positivi sia per i numeri negativi. Fatta questa piccola presentazione, torniamo al nostro problema. Prima di inoltrarci nel mondo delle parti intere frazionarie, eravamo arrivati qui. Ora l'idea è di applicare ad ogni termine la relazione numero uguale parte intera più parte frazionaria. Ma, occhio, alcuni numeri sono già interi e quindi coincidono proprio con la loro parte intera e la loro parte frazionaria sarà 0, quindi lì non dobbiamo fare nulla. Applichiamo e abbiamo imbruttito la nostra disequazione. Facciamo ancora peggio, portiamo la parte intera di n log 2 all'esterno in modo da isolarne la parte frazionaria all'interno. Ora, piccola considerazione. Guardate le due parti intere dei logaritmi di a e di a più 1. Beh, a meno che a più 1 non sia proprio una potenza di 10, queste due parti intere sono uguali. Concentriamoci quindi su questa disuguaglianza in cui parte intera di log a e parte intera di log a più 1 sono uguali. L'altra, nel caso in cui sia 1 in più, si fa in maniera esattamente identica. a questo punto vogliamo convincervi che se noi riusciamo a risolvere la disuguaglianza solo tra le parti frazionarie in realtà abbiamo finito. Perché questo? Beh, supponiamo di aver risolto la disuguaglianza tra le parti frazionarie e quindi di aver effettivamente trovato un valore di n per cui vale questa relazione. Come facciamo a trasformare questa nell'altra? Beh, ci mancherebbero quelle parti con le parti intere. Semplicemente, siccome noi possiamo ancora scegliere un parametro che è k, scegliamo come k proprio quel termine. Quindi, la coppia n che è data dalla soluzione della nostra disuguaglianza tra le parti frazionarie e k che è data da questa formula ci consegna il nostro risultato. Ci manca quindi soltanto l'ultimo passo che però è più impegnativo quindi fermiamoci un attimo e vediamo che cosa abbiamo fatto in un caso pratico. Immaginiamo di prendere a uguale a 7 come numero quindi stiamo cercando una potenza di 2 che effettivamente inizi con il 7. Quello che vi possiamo dire è che 2 alla 46 è questo e soddisfa questa condizione. Allora, andiamo a vedere questa disuguaglianza tra le parti frazionarie con i logaritmi. Beh, il logaritmo in base 10 di 7 è 0,845 0,9 questo numero qui all'incirca. Il logaritmo in base 10 di 2 alla 46 è questo numero che vedete 13,84 e così via mentre il logaritmo in base 10 di il successore di 7 che è 8 è quest'altro numero. Ora, è vero che il termine in mezzo non è chiaramente compreso tra quei due perché gli altri due sono tra 0 e 1 ma dobbiamo prenderne la parte frazionaria quindi togliamo quel 13 e come vedete la disequazione è soddisfatta. Proviamo con un altro numero per esempio io sto registrando oggi oggi è il 17 ottobre quindi proviamo a cercare una potenza di 2 che inizia con 1710 questa volta la potenza che abbiamo trovato è 2 alla 1974 fidatevi è questo qui e proviamo a vedere la disuguaglianza tra i logaritmi se facciamo il logaritmo di 1710 trovate questo numero se provate a fare il logaritmo di il nostro numero 2 alla 1974 ottenete questo se provate a fare il logaritmo di il successore quindi 1711 trovate quest'altro come vedete anche questa volta la disuguaglianza tra le parti frazionarie effettivamente è verificata ma uno potrebbe dire magari ti sta andando bene non è vero se io prendo un altro numero a caso invece sta dentro lo stesso facciamo una prova per esempio prendiamo 2 alla 17esima 2 alla 17esima è questo numero qua come potete vedere non inizia per 1710 e infatti se voi prendete il logaritmo in base 10 di questo numero la sua parte frazionaria non cade nell'intervallo richiesto quindi quantomeno in questi esempi effettivamente sembra che abbiamo fatto le cose per bene adesso andiamo a dimostrare l'ultima parte in realtà vi facciamo un regalo dimostriamo una cosa molto ma molto più forte noi avremo bisogno di questo in realtà vi mostriamo una cosa migliore vi mostriamo che se al posto di avere log 2 abbiamo un qualsiasi numero irrazionale perché sì log 2 è irrazionale e al posto di quei due estremi abbiamo due numeri che volete voi che si trovino tra 0 e 1 sicuramente c'è un valore di n per cui la parte frazionaria di nx cade lì in mezzo ovvero per dire in termini matematici l'insieme formato dalle parti frazionarie di n per x dove n è un numero naturale è denso in 0 e 1 bello eh? si basa su due cose questa dimostrazione la prima è che se voi prendete due diversi multiple interi del vostro numero x sicuramente le parti frazionarie sono diverse questo si dimostra abbastanza agevolmente perché beh supponiamo che siano uguali quindi abbiamo parte frazionaria di n per x uguale parte frazionaria di m per x beh scriviamo al posto di parte frazionaria la sua definizione in termini del numero stesso e della parte intera ottimo riarrangiamo i termini di questa equazioncina e otteniamo che x si può scrivere in questo modo ma questo vuol dire che x è un rapporto tra due numeri interi e quindi sarebbe razionale contraddicendo la sua irrazionalità questo è il primo passo per dimostrare la seconda parte facciamo così consideriamo l'intervallo 0 e 1 consideriamo un numero n a piacere e dividiamo l'intervallo in n sotto intervallini di ampiezza 1 fratto n se riusciamo a dimostrare che in ognuno di questi intervallini si viene a trovare almeno un elemento del nostro insieme abbiamo finito abbiamo dimostrato la densità per farlo ragioniamo in questo modo noi abbiamo appena mostrato che il nostro insieme è formato tutto da elementi diversi erano infiniti e quindi abbiamo infiniti elementi diversi ma abbiamo solo un numero finito di intervalli in cui metterli quindi per il principio della piccionaia potremmo dire effettivamente ci sarà almeno un intervallo in cui cadono due elementi del nostro insieme gli elementi del nostro insieme sono di questa forma e se cadono all'interno dello stesso intervallo vuol dire che la differenza tra quello che sarà il maggiore e il minore è minore di 1 fratto n ottimo siccome la nostra parte frazionaria gode di questa proprietà quello che sappiamo è che la parte frazionaria di a meno b per x è minore di 1 fratto n cioè il numero parte frazionaria di a meno b per x si trova nel primo intervallino ora fermiamoci un attimo supponiamo che a meno b sia positivo perché se a meno b è positivo in realtà ne abbiamo finito e vediamo come procede la dimostrazione se a meno b per x cade nel primo intervallo significa che i multipli di questo valore distano l'uno dall'altro per meno dell'ampiezza di un nostro intervallo e quindi continuando a considerare i suoi multipli interi troveremo sicuramente un valore di questa successione in ognuno degli intervallini il problema è che potrebbe succedere che a meno b in realtà sia negativo e questo non ci va bene perché vi ricordo che a noi serve un multiplo positivo perché abbiamo considerato soltanto n per x dove n è naturale però ci va bene lo stesso perché in realtà se per caso a meno b fosse negativo se la parte frazionaria di a meno b si trova lì allora la parte frazionaria di b meno a si trova di là vediamolo magari con un esempio se noi consideriamo la parte frazionaria di 0,1 essa è 0,1 e quindi si trova qua se noi consideriamo la parte frazionaria di meno 0,1 beh meno 0,1 come parte intera meno 1 e la sua parte frazionaria è 0,9 si trova esattamente dall'altra parte e se noi facciamo lo stesso procedimento quindi non con a meno b ma con b meno a ripercorriamo ancora tutti gli intervalli semplicemente in ordine inverso quindi in ambe due i casi abbiamo effettivamente trovato un elemento per ogni intervallino questo conclude la dimostrazione della densità pazzesco assolutamente pazzesco quando abbiamo visto questo risultato non ci credevamo è vero che le potenze di 2 sono tante ma pensare che preso un numero qualsiasi effettivamente ci sia una potenza di 2 che inizia con quel numero non è banale anzi in realtà se sviscerate la dimostrazione vi rendete conto che non ne trovate una ne trovate infinite di potenze di 2 che iniziano col numero che avete scelto peggio siccome la dimostrazione si basa sul fatto che nella parte frazionaria centrale avevamo un n per qualcosa di irrazionale la dimostrazione funziona purché lì abbiate un numero irrazionale quindi anche log in base 10 di 3 va bene anche log in base 10 di 7 va bene basta che non mettate log in base 10 di una potenza di 10 quindi in realtà potete chiedervi esiste una potenza di 7 che inizia per 32 la risposta è sì sicuramente poi non so dove però ci sarà anzi ce ne sono infinite cosa volete meglio di così beh se forse qualcosa volete rispondere alla domanda iniziale voi avevate scelto un numero l'avete trovata la potenza di 2 che inizia effettivamente con quel numero se non ci siete riusciti qua sotto vi abbiamo lasciato un regalo un modo effettivamente per andare a calcolarla se il video vi è piaciuto mettete un bel like commentate magari scrivendo proprio il numero che avete scelto e la potenza di 2 relativa e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi risultati anche per oggi dal math segnale è tutto ciao ragazzi iscrivetevi al canale